Ciao a tutti ragazzi e ragazze, siccome il freddo si fa sentire ormai, parliamo di un profumo assolutamente invernale, oserei dire indicato per le feste. Oggi parliamo di stella d'inverno, come potete forse riconoscere dalla confezione, è un profumo di olfattiva. Allora, stella d'inverno è un profumo che si basa principalmente sulle note della cannella, il limone e la fava tonca, quindi già da questa associazione vi fa venire in mente le feste, almeno a me fa venire in mente le feste. Penso che sarà il profumo che indosserò a Natale, ho fatto questo ragionamento, me lo spruzzo così, me lo descrivo meglio. Ripeto, non è molto complesso, le note sono quelle che vi ho detto, quindi cannella, limone e tonca. A me sa di dolcetto natalizio, di dolcetto non proprio pan di zenzero, perché non c'è lo zenzero, però il concetto è quello lì, dolcetto speziato. È molto buono, purtroppo, come vi avevo detto su vaniglia limone, di olfattiva sempre, su di me prevale il limone, non so il perché. Secondo me o è molto buono da un certo punto di vista l'olio essenziale, insomma, che usano, perché su di me viene fuori tantissimo il limone che copre sempre tutto il resto. Devo aspettare delle ore perché si senta la tonca e un po' di più la cannella. E mi dispiace, perché sono convinta che non è così, sono convinta che è la mia pelle che lo rende così, perché se lo spruzzo sulla carta invece lo sento più armonico. Mi dispiace. Comunque, è un profumo che sa di dolcetto natalizio, un profumo che sa di feste, che chiama le feste a gran voce. Molto buono, molto piacevole, non particolarmente dolce, perché in realtà non c'è vaniglia, è semplicemente la tonca che dà questo effetto un po' più morbido, un po' più vagamente dolce, ma non è come la vaniglia. Quindi, nonostante rimandi alla mente appunto un dolcetto natalizio o comunque le feste, non è prettamente un gourmand alimentare dolce, non sa propriamente di prodotto da forno, di biscotto, ecco. Però, il mood che crea è quello lì. Molto, molto buono. Col fatto che non è così dolce, secondo me, può essere indossato anche dagli uomini e lo trovo un perfetto regalo di Natale, per esempio, per le feste, perché è abbastanza unisex, ripeto, quindi secondo me può piacere a molti. Io sento, ripeto, molto l'olio essenziale, quindi su di me viene molto fuori il limone. Probabilmente è un profumo che forse dovrei adoperare su tessuti e non sulla pelle. Devo provare a fare questa cosa. Spero non macchi, perché è bello giallo. Spero che appunto non macchi, però sono convinta che sui tessuti sia meglio, perché non prende sopravvento questa cosa del limone. La descrizione dice caldo, avvolgente e armonizzante. Sull'armonizzante sono d'accordo. Secondo me olfattiva lavora molto bene con l'aromaterapia, perché mi avevano inviato appunto un olio d'aromaterapia e era molto buono. Quindi sicuramente è un profumo che mette allegria, mette energia, fa sentire bene, questo sì. Sul caldo avvolgente dipende. Se riuscite a far venire fuori bene la tonca. Adesso dopo un po' che ce l'ho addosso, sì, si sente un po' di più effettivamente. Il limone sta un po' scendendo e devo dire che decisamente mi piace di più, dopo un po', sulla mia pelle, ripeto, è sempre tutto molto, molto soggettivo, però dopo un po' mi piace di più, perché si armonizzano di più le varie essenze e quindi la tonca ammorbidisce tutto, diventa molto più, in questo caso sì, avvolgente caldo, dopo un po'. Purtroppo non mi dura molto, però sapete che, lo dico sempre, io abbasso la persistenza di profumi, quindi già un profumo particolarmente naturale fa un po' fatica a reggere su di me. Però alla fine sono profumi che costano poco e io ho, questo è un 100 ml credo, 115, quindi alla fine me lo posso rispruzzare anche due o tre volte al giorno, che se ne frega. È bello, è bello confortante, è un profumo che vedo molto da casa, cioè mi viene da indossarlo in casa, forse proprio perché così comfy, non lo so, fa sentire bene, fa sentire appunto quell'atmosfera calda, familiare delle feste, per cui mi viene da indossarlo più in casa. Penso che sia perfetto appunto per una cena tra parenti o amici o comunque anche per profumare l'ambiente, ora non mi ricordo se c'è proprio il profumatore d'ambiente con questo odore o la candela per dire, però sarebbe adattissimo, quindi io qualche volta l'ho spruzzato per esempio sulle tende, non troppo da vicino, un po' da distante, però fa un bel odore nella casa, quindi l'ho utilizzato un po' di volte anche in quel modo, anche perché vi ripeto, mettendolo sulla stoffa e non su di me addosso, riesco a sentire meglio la complessità del profumo. Ve lo consiglio assolutamente se volete appunto qualcosa di rilassante, qualcosa da mettervi sul divano, spruzzarvi sul divano mentre bevete una tisana, mi sembra proprio ideale, ecco proprio per l'aromaterapia vorrei dire, credo che sia indicatissimo, quindi vi mando un bacione e al prossimo video.